Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l'area metropolitana, ha sottoposto a sequestro 1.456.000 prodotti contraffatti o non sicuri, tra cui articoli tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. In particolare nel quartiere Barra, il gruppo pronto impiego ha sequestrato in una libreria mille giocattoli con famosi marchi contraffatti. I baschi verdi hanno anche rinvenuto 3.100 articoli non sicuri destinati ai più piccoli, come calendari e album da disegno. Nel corso di tre distinti interventi finanziari del secondo nucleo operativo metropolitano, tra la zona industriale e il secondigliano, hanno sottoposto a sequestro presso l'empori cinesi 14.400 tra cosmetici e articoli di Halloween non sicuri, potenzialmente pericolosi per la salute, e individuato un opificio clandestino, anch'esso sequestrato unitamente a 2.200 capi di abbigliamento contraffatti, attrezzature e macchinari utilizzati per il loro confezionamento. Nel quartiere Renaccia, le Fiamme Gialle hanno sequestrato presso un deposito adibito al commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, macchinari per litografie, 1.900 libri di Totò dal titolo Alivella, privi del marchio Siae, 2.500 fra giocattoli, stampe e altri articoli con marchi contraffatti. Sequestri anche ad Arzano di 3.570 giocattoli contraffatti individuati proprio mentre venivano scaricati, la successiva perquisizione del luogo di destinazione della merce ha permesso di sequestrare in un magazzino all'ingrosso di Qualiano altri 260.000 articoli non sicuri. In provincia i finanzieri del gruppo Rifrata Maggiore hanno sottoposto a sequestro tra Fragola e Sant'Antimo oltre 855.000 tra mascherine di Halloween, giochi per bambini e articoli destinati alla cura della persona e della casa, di dubbia provenienza, di manifattura non sicura, potenzialmente pericolosi per la salute. La documentazione fornita e le informazioni riportate sugli articoli esposti per la vendita non sono risultati sufficienti a garantire la genuinità e sicurezza. Nel corso di un ulteriore intervento le stesse fiamme gialle hanno notato nella periferia di Giuliano in Campania un'autovettura carica di merce ed hanno sequestrato numerosi capi contraffatti e rotoli di etichette di noti marchi ancora sigillati. La successiva ispezione presso l'abitazione del soggetto ha permesso di recuperare nel complesso oltre 270.000 capi contraffatti riconducibili a note griff di alta moda, alcuni dei quali anche con false indicazioni di made in Italy, oltre a due macchinari utilizzati per l'applicazione delle etichette. A Poggio Marino il gruppo di Torre Annunziata ha sequestrato in un emporio cinese 260 biglietti Disney con marchio contraffatto, 24.600 tra guanti in lattice e in plastica e oltre 4.500 mascherine di Halloween. A San Giorgio a Cremano la compagnia di Portici ha sequestrato, nei confronti di un negozio gestito da cittadini cinesi, 20.300 tra capi di abbigliamento, giocattoli e articoli per la casa contraffatti e non sicuri. A Barano d'Ischia la locale tenenza ha sequestrato in un market gestito da cittadini cinesi 4.000 giocattoli e accessori di Halloween non conformi, 32 in totale responsabili sanzionati, 16 denunciati dall'autorità giudiziaria e altrettanti segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. Le operazioni rientrano nell'ambito della costante azione di contrasto della contraffazione da parte delle fiamme gialle partenopee, a difesa non solo del made in Italy e della sicurezza dei prodotti, ma anche degli imprenditori onesti e dei consumatori.